La mostra a Roma di quadri e disegni di mio padre, di Maurizio Valenzi, è andata sicuramente molto bene. Abbiamo avuto 3.000 visitatori e adesso abbiamo portato a Napoli un po' le immagini della mostra per quelli che non sono riusciti a venire, anche se parecchi da Napoli hanno addirittura quella sera dell'inaugurazione preso apposta il treno per vederla. Il catalogo lo presentiamo oggi ed è sicuramente un catalogo che resta perché è una cosa professionalmente molto valida della casettrice Artem e forse dà anche qualcosa in più rispetto alla mostra perché ci sono i testi critici, c'è anche questa raccolta a cui tengo molto di disegni, di schizzi che mio padre faceva così casualmente nel corso di riunioni o di incontri tra amici e poi regalava alla persona ritratta. E qualcuno l'ha conservato e ci ha anche raccontato la situazione, il momento in cui quel disegno è stato fatto. Vorrei continuare questa raccolta anche lanciandola sul sito della Fondazione Valenzi per chi poi gli rappresenta anche un po' dei ricordi, dei pezzetti, diciamo di cronaca, di storia della città di Napoli. Grazie al contributo di amici prestatori e anche istituzioni pubbliche che hanno contribuito con le loro opere a questa organizzazione, a questa mostra di Maurizio Valenzi a Palazzo Valentini, è stato possibile dare uno spaccato di quella che è stata l'attività di Maurizio Valenzi dalla fine degli anni 20 fino agli anni 90. Una mostra che è accompagnata appunto dal contributo scientifico di un catalogo articolato con saggi importanti perché sono saggi che riescono a coprire i diversi aspetti dell'attività artistica di Maurizio Valenzi. Così come la stessa mostra ha contribuito appunto a fare degli affondi specifici sui diversi momenti della sua attività ma anche sul suo diverso modo di concepire la produzione artistica. Da una produzione pittorica che guarda alla grande esperienza delle avanguardie del primo e del secondo dopoguerra e anche una produzione grafica invece più attenta a quelli che sono appunto i contributi, la ristituzione dei contributi introspettivi di diversi personaggi che ha ritratto. Ricordare Maurizio Valenzi per me è una cosa molto bella, molto importante perché Maurizio Valenzi rappresenta naturalmente per tutti quanti noi della mia generazione, della mia in particolare e di me in particolare, rappresenta un'estate felice di illusioni, di sogni, di belle speranze in quanto vedevamo in lui la possibilità che certe utopie potessero diventare realtà. E ci fu un legame molto bello, molto stretto sia artistico sia umano, oltre alla sua disponibilità, al grande affetto che mi legava e ci legava, mi legava a lui e mi fa piacere dire che legava anche lui a me. In particolare quando noi mettemmo in scena, quando io mise in scena il Masaniello, che fu un momento di grande, grande felicità per noi artisti, per i napoletani e naturalmente anche per chi a sinistra come Maurizio pensava di poter essere in qualche modo vicino a noi, e lo fu, e fu praticamente anche il prologo alla stagione bella, la prima stagione bella politica di Napoli con Maurizio Valenzi sindaco.